Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia, bentornati alla nostra serie dedicata alla vita di Napoleone Bonaparte che stiamo raccontando dalle origini in Corsica fino, chissà quando ci arriveremo, si spera un giorno, alla sua fine a Sant'Elena. Nella scorsa puntata abbiamo visto Napoleone rischiare di perdere tutto, rischiare di perdere quel piede in Veneto che era riuscito a mettere dopo la battaglia di Borghetto, schiacciato com'è dall'avanzata delle truppe austriache che in due colonne, una a este e una a ovest del lago di Garda, stanno scendendo verso di lui abbiamo visto Napoleone costretto a ritirarsi, abbandonare l'assedio di Mantova e riportare le sue truppe al di là del Mincio perdendo appunto tutto quel territorio che aveva guadagnato e rischiando di essere accerchiato e distrutto. Quella che racconteremo nella puntata di oggi sarà a tutti gli effetti una piccola campagna e sarà Napoleone stesso a definirla così, perché nelle sue memorie dirà che i cinque giorni che porteranno alle due battaglie di Lonato e alla battaglia di Castiglione scontri teoricamente non molto grandi dimensionalmente, ma che saranno molto importanti per il proseguo della campagna Napoleone li definirà proprio una campagna a sé stante una campagna che cambierà i destini di tutto quello che aveva fatto fino a quel momento. E come sono andate le cose? Beh, ovviamente lo scopriremo oggi lo scopriremo come sempre grazie a Federico che mi ha mandato ancora una volta del materiale semplicemente strepitoso a me non resta che cercare di raccontarlo al meglio, quindi mettetevi comodi iscrivetevi al canale se non lo siete già, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video sigla e poi iniziamo a raccontare. Senza voler raccontare di nuovo da capo, come ho fatto la settimana scorsa, quale fosse il piano delle truppe austriache per affrontare Napoleone, vi basti, nel caso andarlo a recuperare nella scorsa puntata, altrimenti vi basti come piccolo riassunto il fatto che il generale austriaco Wunser avesse deciso di dividere le sue forze e il suo schieramento in due grosse unità. Sarebbero due e mezzo, ma la picco e gli ultimi 5.000 uomini non entreranno in effetti in azione durante questi scontri. Le due grosse unità avevano disceso il lago di Garda, una dal lato orientale guidata dal generale Peter Kwozdanovic e questa era riuscita ad occupare la cittadina di Salò e poi addirittura la città di Brescia, l'altra invece più grande, comandata dallo stesso Wunser, e aveva discesa lungo il lato orientale del lago di Garda e aveva messo in fuga le truppe di Napoleone, che erano state costrette a riattraversare il Mincio e aveva occupato anche la stessa Verona. Napoleone però, come abbiamo raccontato alla fine della scorsa puntata, approfittò di questa ritirata, insomma una metà tra una ritirata e una fuga effettivamente, per riuscire a riorganizzarsi e mettere in atto quello che stava per diventare uno dei suoi piani preferiti, cioè il movimento per vie centrali, che permetteva a un esercito napoleonico di inserirsi fra due eserciti avversari per combattere e annientarne uno per poi occuparsi dell'altro, sfruttando il fatto che, se si trovava in mezzo, la sua velocità di spostamento era ovviamente molto più grande rispetto a quella degli altri due eserciti che dovevano muoversi sulle ali. Inutile dire che la cosa però era rischiosa, perché se non fosse riuscito ad affrontare e a sconfiggere uno dei due eserciti avrebbe rischiato di essere preso in mezzo e in questo modo annientato dagli austriaci che numericamente gli erano di molto superiori. Ad ogni modo, quando Napoleone si portò dall'altra parte del fiume Mincio insieme alle sue truppe dopo aver levato anche l'assedio a Mantova, si riorganizzò nella zona di Lonato, disponendo le sue truppe in tre luoghi diversi, che state vedendo in questo momento sulla cartina. Una parte centrale avrebbe dovuto tenere l'abitato di Lonato, che era molto importante perché era una zona fatta di alte colline che potevano offrire un vantaggio dal punto di vista strategico. Altri due corpi avrebbero invece dovuto mantenere il controllo di Desenzano, più a nord, e più a sud, invece, Montichiari. Ora, ognuno di questi tre corpi aveva degli scopi diversi. Il primo, quello sullo Nato, avrebbe dovuto tenere il centro e tentare di frenare un eventuale attacco portato dalle forze di Kwozdanovic, che, come poteva immaginare Napoleone, mirava a ricongiungersi con quelle di Wumster, che avanzavano alle spalle di Napoleone. Quelle su Desenzano, oltre ad eventualmente attaccare sul fianco le forze di Kwozdanovic, avrebbero dovuto invece tentare una sortita verso nord per raggiungere Salò, in modo da liberare le truppe francesi che si trovavano asserragliate in questa zona, ma soprattutto cercare di sbarrare la strada qualora gli austriaci avessero tentato di riprendere la via per il Trentino. L'ultimo corpo d'armata, quello di Augerot a Montichiari, sarebbe dovuto rimanere in attesa, affrontare eventuali truppe che lo avessero cercato di attaccare per aggirare le posizioni di Lonato ed eventualmente supportare le altre truppe francesi. Anche Kwozdanovic però aveva deciso di mettere in atto una strategia più ampia. Aveva preso i suoi 18.000 uomini e li aveva divisi in tre colonne. Una colonna si era diretta verso nord, verso l'abitato di Gavardo, non molto lontano da Salò, che serviva, in caso di un attacco, per mantenere aperta quella strada che i francesi gli volevano chiudere. Un'altra colonna, guidata da lui personalmente, contava di attaccare l'abitato di Montichiari, in modo da affrontare qui le forze francesi e da aggirarle, mentre la colonna principale, esattamente come previsto da Napoleone, avrebbe dovuto puntare su Lonato. La mattina del 31 luglio, le forze austriache guidate dal generale Hoth giunsero sotto Lonato, tenuta dal generale francese Despinois, che si rese però fin dall'inizio conto che le truppe a sua disposizione non erano sufficienti per poter reggere l'assalto austriaco. Despinois iniziò a chiedere rinforzi, cercò di difendere le alture, utilizzò al meglio le artiglierie, ma fu progressivamente costretto da Retois ad arretrare di fronte alle truppe di Hoth, che, seppur con qualche difficoltà, riuscirono a catturare il villaggio, dove la popolazione si era ovviamente data alla fuga, rinchiudendosi dovunque per evitare gli scontri. Quando Napoleone, seppe quello che stava succedendo, non solo ordinò alle truppe che aveva mantenuto di riserva comandate da Massena, che ovviamente doveva controllare che alle spalle di Napoleone non arrivassero le truppe di Wumser di mandare degli aiuti a Lonato, ma diede ordine anche una parte delle truppe di Desenzano di fare lo stesso. E, intorno all'ora di pranzo, sempre nel 31 di luglio, si è accesa nella zona di Lonato una violenta serie di scontri per il controllo della collina. Mentre tutto questo avveniva, il piano di Napoleone andava avanti. Una parte delle truppe di Desenzano erano risalite verso Salò, avevano qui sconfitto le forze austriache ed erano riusciti a liberare le forze francesi che erano rimaste qui bloccate due giorni prima. Mentre gli scontri infuriavano, però, la notizia di quello che stava avvenendo giunse ad Ojorò, il quale, nonostante avesse ricevuto l'ordine di rimanere su Montichiari, decise di prendere la decisione, a tutti gli effetti rivelatasi ottima, di lasciare la sua posizione e di spostarsi anche lui verso Lonato in modo da unirsi alle forze francesi, aumentare la pressione contro il generale Ott e, in effetti, nel pomeriggio del 31 riuscire a ricacciarlo indietro dalle sue posizioni. Quando Peter Koznanowicz arrivò insieme al terzo braccio dell'avanzata austriaca su Montichiari, non trovò nessuno e, quando seppe che cosa avevano fatto i francesi, cercò a sua volta di convergere verso Lonato, ma non riuscì ad arrivare in tempo. Arrivò quando ormai i francesi avevano riconquistato la collina e ripreso in una salda posizione e fu costretto a ritirarsi. Napoleone era riuscito a sconfiggere il primo tentativo di Koznanowicz di riunirsi alle forze di Wunser. In realtà, questa prima battaglia di Lonato non aveva però dato dei risultati così eclatanti, anche perché la riconquista di Salò fu molto effimera e le truppe francesi, col rischio di essere aggredite dagli austriaci, decisero di ritirarsi. Anche se la riconquista di Salò e il salvataggio delle truppe che qui erano bloccate permise di rialzare il morale delle truppe perché dimostrò che Napoleone non aveva nessuna intenzione di lasciare indietro qualcuno dei suoi soldati. Mentre Napoleone otteneva questa vittoria, anche se ovviamente non lo poteva sapere, c'era qualcun altro che stava lavorando per lui e quel qualcun altro era il generale Wunser, il quale, quando era entrato nella zona di Verona e aveva liberato la città il 30 di luglio, aveva saputo che le forze francesi avevano levato di gran fretta l'assedio da Mantua, addirittura abbandonando i cannoni. E si era quindi convinto che i francesi fossero in rotta e che Kuznanovic fosse riuscito a sconfiggerli o quantomeno a minacciarli, tanto da spingere Napoleone a ritirarsi. Per questo, invece di puntare rapidamente sul Mincio, passare i fiumi e tentare di riunirsi a Kuznanovic, perse tempo per raggiungere Mantua, portare dei rifornimenti agli assedianti, fare i complimenti ai comandanti, distribuire onoreficenze e solo il 2 di agosto seppe che cosa era realmente successo, che Kuznanovic era stato sconfitto allo Nato ed era stato costretto a ritirarsi sulle sue posizioni di partenza. Questo fece perdere molto tempo al grosso dell'esercito austriaco e concesse a Napoleone il tempo per programmare un nuovo piano che gli permettesse di sconfiggere definitivamente il braccio destro, se così vogliamo dire, il braccio occidentale delle forze che lo stavano minacciando per poi occuparsi del braccio principale. Napoleone in effetti si era già mosso. Il primo di agosto aveva mandato le forze di Augerò ad occupare la città di Brescia, a rioccupare la città di Brescia e Augerò ne approfittò per farsi consegnare dai soldati della Serenissima, gli schiavoni, anche la fortezza della città, che fino a quel momento era rimasta in mano loro per assicurarsi che in futuro la città fosse più facile da difendere. Ovviamente Augerò non aveva lasciato le sue posizioni senza nessuna protezione, ma aveva distaccato una parte delle sue truppe affidandole al generale Lavallette, il quale aveva avuto il compito di costituire una specie di retroguardia delle forze francesi, preparandosi con i suoi circa duemila uomini a difendere la parte posteriore dell'esercito francese della retroguardia qualora gli austriaci avessero superato il Mincio e l'avessero attaccata. Nel mentre, Napoleone aveva concentrato le sue truppe nella zona di Lonato, non esattamente nella città sul colle, che era stato in realtà assegnato a poche truppe, ma subito alle sue spalle. Per poter attaccare le posizioni di Kuznanovic aveva deciso di agire su tre direttrici. Una parte da parte da Brescia, dove le truppe si sarebbero dovuto muovere per prendere da ovest le truppe austriache. Un'altra parte invece avrebbe dovuto sbarrare loro la strada e per questo aveva deciso di destinare una parte delle forze che ancora si trovavano a Desenzano a risalire nuovamente il lago di Garda per andare nuovamente a catturare la cittadina di Salò. Le ultime truppe sarebbero dovute partire proprio dalla zona di Lonato per attaccare Kuznanovic nel punto dove aveva concentrato le sue truppe. Kuznanovic però non era rimasto con le mani in mano e quando si era reso conto che i francesi si stavano preparando ad assaltarlo aveva deciso di cercare di aprirsi una strada che da Gavardo lo portasse verso Wunser e per questo aveva mandato il generale Oxai a attaccare Desenzano per cercare di prendere la città e aprire in questo modo una strada. La notte tra il primo e il 2 di agosto 1796 quindi se aveste potuto volare sopra il campo di battaglia avreste assistito alla stranissima scena di un contingente una colonna austriaca che da nord si spostava verso sud verso Desenzano e una colonna francese che a poche centinaia di metri di distanza in linea d'aria ma senza che nessuno si accorgesse di nulla stava facendo il percorso opposto partendo da Desenzano spostandosi verso Salò due colonne che non si incontrarono si sfiorarono solo ed entrambe raggiunsero il loro obiettivo la mattina del 2 agosto quindi Kostanovic seppe che anche se la sua manovra su Desenzano era riuscita in realtà le sue truppe erano accerchiate prego come gli fece presente il generale Ott Salò era caduta e ora le sue posizioni su Gavardo erano chiuse da 3 su Gavardo che lo scusa erano chiuse da 3 direzioni per questo decise di mandare un secondo contingente a rafforzare le forze del generale Oxai e gli diede ordine di attaccare lo Nato avendo compreso che se le forze francesi stavano attaccando lui sulle sue posizioni probabilmente quella collina era stata lasciata abbastanza sguardita e sperando una volta catturato quella collina di poterla tenere a sufficienza affinché le forze del maresciallo del feld maresciallo Wunser io dico sempre generale in realtà è un feld maresciallo avessero il tempo di raggiungerlo in effetti le forze di Wunser si stavano muovendo l'avanguardia comandata da generale Liptai ve lo ricorderete per altri conflitti sembra di sembra di Simson questa frase ma insomma iniziamo anche a conoscere un po' di questi generali l'avanguardia guidata da Liptai in effetti aveva superato il Mincio e si era diretta verso la zona di Castiglione dove si era scontrata con quelle truppe che Ojoro aveva lasciato al comando del generale Lavallette in realtà scontrata è una parola grossa perché Lavallette non aveva in realtà combattuto particolarmente ma si era ben presto ritirato di fronte alla superiorità numerica degli austriaci mettendo in questo modo in crisi l'intero schieramento francese perché Napoleone rischiava di essere attaccato alle spalle e costringendo Ojoro ad intervenire personalmente la sera del 2 di agosto per cercare di tamponare la falla la mattina del 3 di agosto avvennero quindi due attacchi in simultanea da una parte gli francesi attaccavano le posizioni di Kuznanovic chiuso nell'accesso della valle che risaliva verso il Trentino dall'altra parte gli austriaci attaccavano loro volti francesi Liptai attaccava le posizioni di Ojoro cercando di prendere alle spalle Napoleone mentre le forze di Orsai da Desenzano attaccavano in allo Nato spero francamente che la mappa vi riesca a far capire questi movimenti perché fa veramente capire questa battaglia quanto Napoleone si trovasse a muoversi in uno spazio molto molto ristretto ora le posizioni sullo Nato i francesi non riuscirono a tenerle perché ovviamente l'attacco era composto da truppe quattro volte più numerose di quelle che difendevano e nonostante il coraggio dei francesi la collina venne conquistata ma Napoleone reagì molto rapidamente e già a mezzogiorno aveva dato ordine a Mastena di portare qui il grosso delle truppe che aveva tenuto di riserva per tentare di riconquistare la collina collina che sarà ripresa intorno l'una alle due di pomeriggio quando le forze francesi riusciranno dopo una lotta durissima casa per casa a ricacciare giù gli austrieci costringendoli a ritirarsi verso la zona di Desenzano intanto Augerot stava riuscendo a sua volta in un miracolo perché nonostante fosse in netta rispetto alle forze di Liptai era riuscito a respingerle era riuscito a respingerle arretrando con le sue truppe fino a trovare un piccolo fiumiciatolo per poi sfruttare quella posizione per attaccare le forze austriache fruttando ovviamente una posizione coperta per poi metterle in fuga con la cavalleria guidata dal generale origine irlandese lo ricorderete Kilmein questa vittoria di Augerot che aveva fatto arretrare Liptai fino a Castiglione diede il tempo a Napoleone di completare il suo accerchiamento il mattino del 4 ormai la situazione sul fronte occidentale era risolta Kuznanovic era stato sconfitto buona parte delle sue truppe erano state catturate o disperse e lui stesso si stava cercando di ritirare verso nord ancora sotto il fuoco delle truppe francesi tanto che Napoleone pote dare ordine alle altre sue truppe di concentrarsi verso la zona di Castiglione per prepararsi ad affrontare le forze di Wunser peraltro proprio quel mattino del 4 è successo un episodio curioso perché Napoleone che aveva posto il suo campo a Lonato subito dopo gli scontri aveva con sé circa un migliaio di uomini 1200 uomini quando 3000 austriaci sbucati completamente dal nulla che facevano parte probabilmente del contingente del generale Otto ma erano stati tagliati fuori dai movimenti francesi si presentarono sotto l'abitato di Lonato intimando ai francesi di arrendersi Napoleone si presentò personalmente di fronte a loro diede loro 8 minuti per arrendersi altrimenti avrebbe dato ordine ai 20.000 uomini che aveva a disposizione di annientarli e gli austriaci che ovviamente non ricevevano più notizie e credevano che tutto fosse ormai compiuto decisero di deporre le armi come vi dicevo Napoleone di uomini ne aveva solo 1200 a disposizione ma ancora una volta gli era andata bene con Kuzanovic in fuga Napoleone potè concentrare i suoi uomini esattamente come aveva previsto dopo aver annientato uno dei bracci che lo dovevano stritolare si volse verso gli austriaci per affrontarne il corpo principale se Napoleone aveva questa possibilità la doveva probabilmente ad Ojoro che in effetti per anni incenserà per la disperata difesa che aveva fatto su Cassiglione che gli aveva permesso di sconfiggere le forze di Kuzanovic ad ogni modo il 5 di agosto le forze austriache che intanto avevano superato il Mincio e che si erano attestate sulla collina di Solferino e quelle francesi si trovavano una di fronte all'altra Napoleone però aveva anche in questo caso un problema cioè quello che non gli bastava vincere questa battaglia ma doveva quantomeno vincerla in maniera molto netta perché? perché se si fosse limitato a respingere le forze di Wunser indietro queste avrebbero potuto andarsi ad accampare sotto la fortezza di Mantova e supportate dalle forze qui presenti e dai cannoni della fortezza rendere del tutto impossibile a Napoleone sloggiarle da lì in questo modo permettendo agli austriaci di far affluire altre truppe e prenderlo ancora una volta in mezzo il suo obiettivo era quindi quello sì di sconfiggere Wunser ma in primo ordine ovviamente cercare di annientarne l'esercito in secondo ordine costringerlo a ritirarsi nuovamente verso nord in modo da evitare qualunque ricongiungimento delle forze austriache per questo previde un piano che portò alla battaglia di Castiglione veramente molto molto interessante che però come vedremo non andrà esattamente a buon fine per alcune cose che necessitavano di essere cambiate e che Napoleone imparò e modificò poi in battaglie successive partiamo dall'inizio il grosso dello schieramento di Wunser lo abbiamo detto si trovava nella zona di Solferino e sarebbe marciato in maniera abbastanza diretta contro le forze francesi a tamponare questo primo attacco sarebbero dovute essere i due componenti principali dell'esercito di Napoleone comandati da Massena e Augerot i quali avrebbero dovuto affrontare le forze austriache bloccarle costringere Wunser a concentrare contro di loro il grosso delle forze e permettere ad un altro contingente di Napoleone di aggirarle questo contingente era composto da circa 5.000 uomini che teoricamente facevano parte delle truppe di Seriorie Seriorie che però era malato non poteva comandarle e al comando di quegli uomini c'era un generale Fiorella il cui cognome tradice origini vagamente italiane ma in realtà era originario della Corsica era nato anche lui ad Agiaccio esattamente come Napoleone Fiorella che era noto per essere un comandante di cavalleria molto coraggioso aveva in effetti un compito molto importante si doveva portare nella parte meridionale dello schieramento austriaco prendendolo non proprio esattamente alle spalle quanto di lato e nel momento in cui gli austriaci si fossero lanciati in avanti contro le forze francesi aggredirne il fianco per scompaginarne le forze bloccare in questo modo le forze di Wunser che si sarebbero trovati attaccati da due direzioni diverse costringere Wunser a dividere le proprie truppe per lasciare un ultimo spazio aperto perché se Wunser avesse parato l'attacco verso Massena e Uccerola da una parte e verso Fiorella dall'altra avrebbe lasciato in mezzo uno spazio in cui dei granatieri dimentichiamocelo il corpo d'elite per questo tipo di assalti dell'esercito napoleonico si sarebbero potuti infilare in modo da far collassare l'esercito austriaco in questo modo gli austriaci si sarebbero disgregati e Napoleone avrebbe potuto annientare l'esercito ma qualora le cose fossero andate male l'esercito di Wunser avrebbe avuto come unica strada per la ritirata quella verso nord come vi dicevo non andò tutto esattamente come previsto la mattina in cui iniziò la battaglia Napoleone ebbe un piccolo vantaggio iniziale perché decise di dare e fare una piccola modifica al suo piano e quando vide le forze austriache molto aggressive fin da inizio della mattinata diede ordine alle forze di Massena Giorot dopo il primo fuoco di fucileria di iniziare a ritirarsi in modo da far avanzare le forze di Wunser che in effetti cascò in questa tattica e diede ordine al proprio fianco destro di aggirare le forze francesi per cercare di schiacciarle in questo modo indebolì ulteriormente il suo fianco sinistro e questo avrebbe sulla carta permesso alle forze di Fiorella di avere un'azione ancora più distruttrice purtroppo però qualcosa non funzionò anzi non funzionarono due cose la prima fu che Fiorella anticipò troppo l'attacco e anticipando troppo l'attacco quando le forze di Wunser ancora non erano completamente lanciate in avanti permise al Feldmaresciallo di ritirare la sua avanzata e di tornare a prendere le posizioni centrali inoltre l'altra cosa che non funzionò fu la manovra delle truppe di Ojoro e Massena che dopo essersi ritirate avrebbero dovuto contrattaccare in forza gli austriaci in modo da costringere i generali Feldmaresciallo austriaco a concentrare qui le sue truppe e far spazio a Fiorella ma il contrattacco francese arrivò troppo lentamente perché le truppe non compresero questa cosa di doversi ritirare per poi contrattaccare e ci vuole l'intervento dello stesso Napoleone per ordinare loro di farlo l'attacco giunse troppo tardi troppo lentamente e permise a Wunser di mantenere una parte delle proprie truppe di rinforzo che furono quelle che andarono a tamponare l'attacco di Fiorella nonostante questo lo spazio si era comunque creato i granatieri attaccarono comunque laddove era previsto ma ancora una volta qualcosa non funzionò perché nonostante questo attacco fosse riuscito a mettere in crisi lo schieramento austriaco i granatieri erano troppo pochi per riuscire a disgregarlo completamente quindi il tentativo di distruggere l'esercito austriaco nella battaglia di Castiglione fallì ma fu comunque una grande vittoria perché perché Wurmser attaccato da più direzioni e ad un certo punto addirittura minacciato nel suo quartier generale da un attacco portato dalla cavalleria francese pensò o meglio capì che la battaglia era finita diede ordine ai suoi uomini di ritirarsi ed esattamente come Napoleone aveva sperato in secondo ordine si ritirò verso nord rinunciando a qualunque possibilità di scendere verso Mantova ma ripassando nella zona di Borghetto e di Peschiera facendo saltare ovviamente i ponti per non farsi inseguire dai francesi e risalendo verso Trento la vittoria fu incompleta anche perché le truppe di Napoleone erano stanche erano 5-6 giorni che quelle truppe si muovevano lungo il fronte erano avevano combattuto per giorni praticamente senza fermarsi lo stesso Napoleone aveva fatto si stima circa 150 km in quei giorni tanto che addirittura aveva ucciso 5 cavalli sotto di lui nello sforzo di portarlo da una parte all'altra e come lui avevano fatto molte altre delle sue truppe soprattutto la cavalleria che Napoleone aveva usato più volte per tamponare problemi lungo il fronte il risultato fu che di truppe in grado di inseguire gli austriaci in ritirata ce ne furono poche la cavalleria era anch'essa stanca e anche se attaccò alcuni gruppi di austriaci in realtà alla fine le perite austriache furono molto limitate Napoleone però era riuscito nel suo intento aveva scacciato prima un braccio dell'offensiva aveva poi attaccato e scacciato l'altro e li aveva costretti a risalire lungo le sponde del Garda nei giorni successivi le forze di Napoleone riattraversarono il Mincio rioccuparono la fortezza di Peschiera raggiunsero nuovamente Verona e tornarono a mettere sotto assedio Mantua chissà io mi immagino se Rurie che una volta tornato a Mantua si mise a scavare per tirare fuori quei cannoni che aveva nascosto e di fronte alla fortezza avrà pensato siamo di nuovo qua vediamo come andrà a finire bene non vi anticipo molto lo vedremo poi nelle prossime puntate ma prima che la fortezza di Mantua possa cadere gli austriaci faranno parecchi altri tentativi per risolvere questo assedio ci saranno altre battaglie tra cui alcune delle più note e famose e anche amate e celebrate in Francia battaglie di Napoleone ma ne parleremo nella prossima puntata spero sia stata una puntata comprensibile mi rendo conto che rispetto ad altre è stata veramente tanto di guerra tanto di cartine ma secondo me tutti questi movimenti meritavano di essere raccontati spero di essere riuscito a farlo al meglio ho volutamente sintetizzato alcune parti perché alcuni scontri erano in realtà un pelo più confiore complicati ma sarebbe stato impossibile da seguire ma il quadro generale spero di essere riuscito a darlo e spero di essere riuscito a darvi anche il quadro della complessità di questi movimenti ricordiamoci sempre che siamo in un'epoca in cui non ci sono le radio quindi Napoleone doveva aspettare i dispacci per riuscire a sapere cosa stavano facendo le sue truppe e questo secondo me aggiunge veramente tanto alla sua grandezza anche perché in questa fase bisogna riconoscere che gli austriaci combatterono bene fecero delle buone mosse ma vennero battuti dalle tattiche di Napoleone anche diciamolo da un po' di sfortuna ad ogni modo ringrazio ancora tantissimo Federico per tutto quello che fa per tutto il materiale che mi sta mandando come sempre un grandissimo ringraziamento ad abbonati Patreon e a chi fa donazioni sul conto Paypal il ringraziamento di oggi è particolare un po' particolare perché è un ringraziamento a Pierpapè che qualche settimana fa ha fatto una donazione enorme per il canale veramente grossa che d'accordo con i bibliotecari ho deciso di mettere da parte in modo da darle uno scopo specifico cioè quello di utilizzarla per pagare tra virgolette gli spostamenti che faccio ogni volta che vado a partecipare a qualche evento ovviamente in maniera gratuita quindi non con gli spostamenti pagati se vado a parlare in una scuola vado a parlare a qualche evento storico per in qualche modo utilizzare veramente quei soldi per diffondere il più possibile questa mia passione che spero sia anche la vostra passione quindi grazie mille a lui ma ultimamente stanno arrivando veramente delle grosse donazioni spero di riuscirlo a utilizzare al meglio per migliorare questo canale sapete che tutto quello che arriva ad abbonati patron e donazioni viene tutto utilizzato per il canale ad ogni modo come sempre vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere le loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pidole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pidola di storia ci vediamo settimana prossima per continuare la storia di napoleone a presto ciao 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 ciao